Durante l'ultimo test di MotoGP a Gerec, Ducati ha affidato un incarico speciale ai fratelli Marquez, mettere alla prova nuove componenti sulla loro Desmo 16. La sessione di test ha offerto spunti promettenti, soprattutto per il team Gresini, testimoniando un'evoluzione notevole rispetto alle prestazioni passate. In MotoGP la dinamica dei test collettivi varia sensibilmente tra piloti ufficiali e privati. Mentre i primi sono immersi nella sperimentazione e nello sviluppo tecnico, i secondi spesso si concentrano su affinamenti individuali di assetto e tecnica di guida. Tuttavia, per i Marquez, il ruolo durante il test di lunedì a Gerec ha subito una svolta interessante. Su richiesta di Ducati, entrambi hanno testato nuovi componenti, un'opportunità che Alex Marquez ha colto per affinare la sua comprensione della GP23. Alex, al suo secondo anno con il team Gresini e alla guida di una Desmosedici, ha commentato. I test offrono sempre spunti positivi, ma ciò che abbiamo sperimentato oggi va oltre il normale. Abbiamo esplorato nuove dinamiche di frenata e trazione che potrebbero essere decisive nelle prossime gare Allemans e Mugello. Questa stagione ha visto la GP24 superare la sua predecessora sin dalle prime uscite, un cambiamento che ha richiesto un adattamento da parte dei piloti, abituati al feedback diretto e rassicurante della versione 2022. La moto di quest'anno mostra un potenziale superiore. Sta a noi sfruttarlo pienamente, ha riflettuto Alex, riconoscendo i progressi fatti da Marco Bezzecchi, che ha ottenuto il suo primo podio stagionale, e Fabio Di Gian Antonio. La giornata di test non solo ha permesso di valutare nuove soluzioni tecniche, ma ha anche rafforzato il morale dopo un gran premio soddisfacente, dove Alex ha conquistato un rispettabile quarto posto. Approcciarsi ai test dopo un weekend positivo cambia la prospettiva. Ci si focalizza più sull'evoluzione che sulla risoluzione di problemi, ha spiegato il giovane spagnolo. Concludendo la giornata, Alex ha lasciato intendere che il lavoro di test potrebbe presto tradursi in miglioramenti tangibili. Abbiamo sperimentato con alcune novità che potrebbero fare la differenza in futuro. È un dare e avere con Ducati, e oggi abbiamo dato il nostro contributo per il progresso comune. L'intesa e la collaborazione tra i fratelli Marquez e Ducati segnano un capitolo intrigante per il team, con promesse di innovazioni che potrebbero rivelarsi cruciali nella lotta per il titolo di MotoGP.